Ben ritrovati ragazzi con un'altra puntata di La vita del fumatore mi scuso con tutti voi amanti del fumo per il ritardo di questo video sulle recensioni delle sigarette per via delle festività cazzi mazzi festeggiamenti di qui regali di là fammi un pompino qui e cucciami una tetta di là vabbè mi sono dimenticato di caricare dei video che parlano appunto delle sigarette quindi gente vi auguro una buona visione scusatemi ancora mi è piaciuto il commento Diego for President intanto voglio sponsorizzare il canale di Zaydan Generation Games che è un ragazzo che fa video su come si può definire dal canale Games sui giochi che ho conosciuto sulla online di Battlefield che adesso stiamo organizzando di fare una partita tramite PVR che c'è a lui perché io devo ancora comprarlo forse comunque sia non perdiamoci in chiacchiere sponsorizzando Zaydan Generation Gaming termino qui salutiamo Dom buona visione e alla prossima salve a tutti ragazzi siamo qua con il secondo episodio della serie sulle sigarette e oggi andremo ad analizzare le Polmall Famous American Blend notare una cosa che qua spero che si veda c'è scritto free non è vero e che dire è carina come scatola la scritta Polmall o Polmol come cacchi volete dire è rilievo davanti no sopra no c'è il simbolo questo qua della Polmall che è in rilievo poi come si può vedere il pacchetto è carino infatti c'è sulle venature di una foglia e la scheda tecnica dice catrame 7 mg nicotina 0,6 mg monosido di carbonio 8 mg delle sigarette medio forti e io stupidamente vabbè ho tirato via la parte di plastica ma chi se ne frega e volevo far notare che dentro si trova dentro si trova una una pubblicità con scritto vabbè Polmall libera il gusto e nasce Polmall free vabbè free il nuovo gusto Polmall sole acqua e tabacco lavorato senza additivi aggiunti senza additivi non vuol dire che il prodotto sia meno nocivo infatti per riscoprire il gusto delle cose vere vabbè ok con una curiosa a parer mio scritta su tutto il pacchetto sulla carta che contiene le sigarette senza additivi senza additivi senza additivi e che dire figa c'è scritto ovunque abbiamo capito che sono senza additivi tacchio allora 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 è una sigaretta come al solito standard molto semplice con la scritta Polmall altro che Ghirigori eccetera eccetera non si sente il colpo in gola da parte della nicotina infatti sono 0,6 mg non è un granché però devo dire che non si sente tanto non si sente quasi per niente hanno un sapore curioso a parer mio è dolce cioè il retro gusto è dolce hanno un pochino amarogliolo però è apprezzabile stessa roba con la cascata però molto più più forte molto più nitido e volevo notare una cosa se vi ricordate nella puntata precedente sul pacchetto dell'elido c'era scritto British American Tobacco group stessa cosa c'è scritto anche qua però queste sono decisamente molto meglio e sono fatte vabbè però sono sempre fatti sono sempre fatti in Europa però stranamente certe sigarette della British American Tobacco group infatti in Europa sono più buone rispetto ad altre detto questo le ho pagate 4,30 euro come le Lido e fra Lido e Polmall o Polmull consiglio decisamente le Polmall anche perché il pacchetto è molto carino le sigarette sono buone detto questo eeeh viva il Polmall ma fa culo le Lido ben ritrovati ragazzi con una nuova recensione oggi andremo a recensire le Malboro Gold Touch nel pacchetto Oniro che è abbastanza carino la scheda tecnica narra catrame 7 mg nicotina 0,6 mg l'unosso di carbone 7 mg per una città più pulita usare la spazzatura non lasciandole accese ovviamente è una sigaretta non standard è leggermente più corta e più piccola come si può notare dal diametro vabbè carina la scritta Malboro Touch e cogliavo l'occasione per le Malboro che un utente mi ha mandato un'email arriva da main non c'entra Minecraft comunque sia mi dice ho apprestato molto il tuo video delle sigarette fanne qualcuna sulle Malboro se puoi so che non ce ne sono molte in giro e la Malboro appunto non ne ha fatte tante l'effetto nicotina non è pressoché pesante ma non si non si percepisce tantissimo hanno un sapore strano lascia un retrogusto lascia un retrogusto strano non è definibile comunque sia è paragonabile al caffè a una cosa simile al caffè l'odore è gradevole a parere mio abbastanza dolce questa roba con la cascata detto questo non mi ricordo quanto lo pagate comunque sia sono abbastanza buone il pacchetto è carino appunto lo tengo per la collezione e se volete consigliarmi qualche sigaretta che già qualcuno ha fatto Diana Rossi piuttosto che altre cose basta che non siano One o Super Light figa da più fastidio la ringola salve a tutti ragazzi ben trovati qua con un nuovo video della vita al fumatore come promesso vi facevo le recensioni cioè fumavo solo per fare le recensioni e quindi siamo qua oggi con le con le Yes Smoke sono delle sigarette italiane e voi sapete quanto mi stanno simpatiche che le sigarette italiane che dire from Italy worldwide a sapere cosa vuol dire esatto un secondo vedere qua hanno un design carino tutte queste onde questi sinusoidi vabbè la cosa che mi lascia un po' sbalordito che c'è scritto non testato sugli animali una cosa che riuscita a leggere però vabbè esistono due modelli penso cioè due modelli due tipi queste qua da 0,6 mg di nicotina e quelle da 0,8 penso l'odore mi ricorda un po' quello chimico ma un po' più forte così lascia un sapore sembra tipo un po' corn bruciato intanto che si tossa il filtro la scheda tecnica narra nicotina 0,6 mg ovviamente catrame 8 mg io ho 8 mg sono delle sigarette medio pesanti non sono poi tanto pesantissime come sono malboro o altre cagate del genere tocca troia il colpingola lo sento però 0,6 mg possono ricordare quello delle whiston si potrebbe ricordare quello delle whiston hanno un sapore acidogno lo è così è acidogno quasi però tutto sommato è apprezzabile l'odore anche lì non è che si capisce tanto bene anche l'acido ondolo quasi però che dire oh l'italia si sta rialzando a prendermi perché dalle lido le 821 hanno alzato un po' la media siamo lì un po' su 6 ma questa qua non sono male devo dire sono ne bene consiglio anche perché costano 4 euro 4,0,0 perché adesso le sigarette che costano meno sono 4,30 euro con i tempi che corrono preferirei si pagare 30 centesimi in meno anche se non sono un cazzo però con 30 centesimi compro un caffè a scuola però io gli risparmio per il caffè a me che fa cagare che dire non sono male però visto che fumo solo per voi comunque sia una piccola fabbu time che c'è stato un ragazzo ieri che mi ha chiesto se fumava ancora per tutti no fumo solo per fare delle recensioni di queste sigarette nuove italiane italiane per voi mi scoccia però spendere soldi per fumare una sigaretta e basta però lo faccio per voi anche perché diciamo la verità non è che ho smesso sono passato da lì ma sì buttiamola lì dalle 10 sigarette al massimo a fumarne una al massimo due al giorno che nel senso queste qua ne fumerò una ogni giorno al massimo cioè sto fumando questo e basta però comunque sia devo dire che la tosse alla mattina è una tosse della madonna perché i polmoni quando non sono incatramati tendono a pulirsi quindi è tanto di guadagnato anche perché lunedì che sono andato a Gallarate a fare una roba con la scuola devo dire che non sentivo così tanto la fatica fumando una o due sigarette al giorno pensate se non ne fumassi quindi comunque sia ragazzi la recensione si termina qui ci vediamo la prossima puntata di Vita al Fumatore grazie a tutti